ciao ho preso l'album di debutto dei lucente questo è il carro cioè manca un pezzo però il carro ok tutto il lucchicoso il GD che è una macchina della castellazione oltre sempre sempre oi 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 mi è piaciuto un sacco questo debutto inoltre questo album in questo album le canzoni sono tutte bellissime che è questa qua? film, scelta, musica, glismas perché? debutto trust me, trust me un po' un po' oh, che frate ci sono abbiamo i testi comunque questo è bellissimo abbiamo i? negatamente? di qua si? di qua? non so come sia mask? no, ok, no e qui mi metterò a guardare bene cosa sono le stesse le cose qua caffè perché c'è il copino boh bello, 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 bello per me lo studio per bene per tutte le frasi che ci sono ok, ok, ciao